Salve a tutti. Yalla, yalla. Yalla. Davide dov'è? È di sopra. Andiamo. Hai capito, Negor? Ascana, hai capito anche tu? Sì, sì, l'ho capito. Cerchate di fare i morti di fame e ce la caviamo. Andiamo. Ecco. Certo che è una bella somma. No, vi assicuro che... Salve. Yalla. Buongiorno. Salve. Prende pochissimo il rapporto agli altri. Salve. Buongiorno, Davide. Yalla. Ma come saluti? Salve. Salve. Salam. Questi sono gli amici che le dicevo. Bene. Accomodatevi. Mettetevi i bordi che il centro è rotto e poi cadete. Un po' di più. Come andiamo? Non ti sei fatto più vedere. E finché mi hai portato era orrendo. Non sono riuscito a guardarlo. Ma sei un film meraviglioso. Oh, no, no, direi. Ma lei guarda solo i polizieschi. I film romantici sono belli. No, romantici li detesto. Cosa le piace? Che funcetta? Guerra, 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 guerra. Che tipo di guerra? Sparatorie. E basta. Quanti ne devono ammazzare? Almeno cento, cento due. Non ammazzare cento persone. Devono solo ammazzare, niente sbaciocchiamento. Le due cose insieme non si può. No, la guerra e il basucchiamento insieme no. Perché? I poliziotti non hanno un cuore. O sei innamorato o sei un assassino? Le due cose non si può. No. Tenga questo poliziesco. Marlon Brando. Marlon Brando è vecchio. Mi devi dare film nuovi. Ma tanto lei non li ha visti. Scusatemi, anche voi siete venuti qui per il passaporto. No, noi siamo qui per prendere il visto. Dove state pensando di andare? Dove possiamo cercare di sistemarci bene? Australia, Germania, America, Inghilterra. Vogliamo cambiare un po' aria. Così avremo occasione di visitare i posti nuovi che non conosciamo. Che so, il Louvre di Parigi, le cascate del Niagara. Poi se ci troviamo bene, magari ci fermiamo per un periodo. Mi dica che vuole. Si è addormento, capito? Oh, capito. Oh, porta via questo film. Non lo voglio più vedere, mai più. Va bene, va bene. Aspetta, le ho preso Al Pacino. No, senti, non voglio neanche Al Pacino. Ma che vuole? Al Pacino, non ha l'anima. Ah, ho capito. Lei vuole un film con Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage. Da ciò ne insomigliò. A noi ci piacerebbe fare un concerto a Londra. È un sogno. E quante persone siete? Noi siamo cinque persone. Che bello. Che genere di musica suonate. Ecco, noi facciamo indie rock. Davvero, non ci posso credere. Io sono un'appassionata dell'indie rock. E di Fifty Cent, Madonna. Mi fanno canzoni incredibili. Speriamo di incontrarci lì, così magari possiamo venire al vostro concerto. Sì, speriamo di poterlo fare. Inshallah. Signor David, allora, i nostri passaporti? Solo un attimo. Speriamo. Grazie.